La musica è ascolta per sessione nella oria emozione, da che quando ascoltiamo la nostra musica preferita, in questo scudo dell'agosto 2014, si è visto che si modificano i collegamenti all'interno del nostro cervello e vanno ad attivarsi le regioni che in realtà non sono più tanto quelle dell'udito, ma quelle della memoria e delle emozioni, per cui ognuno ha le sue preferenze musicali, ma alla fine l'area ultima che viene attivata è quella delle emozioni, del proprio vissuto e viene attivata sia che sentiamo Mozart, Beethoven o Emilem o da scorsi, perché questi collegamenti vengono attivati proprio quando sentiamo la nostra canzone preferita, quella che fa parte della nostra storia. La vita quotidiana è un altro momento in cui chiediamo ai nostri pazienti, a ciascuno di noi, lo sforzo è di provarci a recuperare quel gesto sul quale stiamo lavorando nell'ambito di educativo che non viene da creare una malattia, un trauma, un intervento, un momento qualsiasi ha comportato una risabilità. La fatica dell'apprendimento possiamo vedere veramente in tanti ambiti, in tanti ambiti che non sono solo gli apprendimenti scolastici, ma sono anche gli apprendimenti di strategia, apprendimenti che significano tutta la partecipazione della persona a quello che stiamo facendo, apprendimenti che passano attraverso l'errore, attraverso la ripetizione, attraverso sicuramente la fatica, apprendimenti che passano tanto per la motivazione, la motivazione a superare se stessi. Grazie!